Dopo pesenti Togordo e Corradi, ecco anche Davide Di Molfetta, quarto acquisto invernale, di un Piacenza Calcio letteralmente scatenato in questi giorni di mercato. Il direttore sportivo Luca Matteassi è stato infatti fulminio come quando scattava sulla fascia nell'aggiudicarsi l'esterno offensivo classe 1996, bruciando la concorrenza e vestendo di bianco-rosso l'attaccante svincolatosi recentemente dopo il fallimento del Vicenza. Negli ultimi sei mesi sono stati un po' complicati a Vicenza, c'è stata un po' la situazione societaria difficile e complicata e in più in campo ero un po' chiuso dai giocatori esperti come Giacomelli, De Giorgio, quindi ho trovato un accordo con il Piacenza che è una grandissima società. C'era Luca Matteassi che mi chiamava già dall'anno scorso gennaio, quindi qua è una società dove posso far bene e speriamo di iniziare al meglio questa avventura. Un campionato da protagonista con la Maia del Prato, squadra con la quale ha ottenuto la salvezza al termine della passata stagione, ha consentito all'esterno cresciuto nelle giovanili del Milan di mettersi in luce. Ora però viene il momento della definitiva consacrazione tra i grandi. Crescere in un settore giovanile come il Milan è qualcosa di incredibile, sono stato fortunato e bravo a cogliere l'occasione anche di giocare in una società come questa, come il Milan, però adesso è da dimenticare, nel senso che adesso per me inizia una nuova avventura qua e quindi sono concentrato per Piacenza. Questa deve essere assolutamente un'occasione, ci sono tutti preso posto qua per far bene, questa squadra la conosco bene perché l'anno scorso l'ho incontrato due volte. Ho avuto anche l'occasione di vedere l'ultima partita che hanno fatto in casa contro Ciena, sono stati un po' sfortunati però ho intravisto già una buona squadra. La rosa disposizione di Arnaldo Franzini può dirsi quindi ritoccata a dovere con l'inserimento di Di Molfetta che consente al tecnico di Vernasca ben più di una soluzione offensiva. Non ci sono più scuse, il piace a questo punto deve per forza ingranare la giusta marcia, una marcia da play-off.